Possiamo dire che la prevenzione è la cura? Allora, la prevenzione è la cura, giusto. Nel senso che una diagnosi precoce garantisce alla donna una vita migliore. Mentre stiamo parlando una donna si è ammalata di cancro al seno. Prima tappa a Napoli del progetto La salute del seno non ha confini. Promosso dall'ALTS per informare e trasmettere la cultura della prevenzione purtroppo non ancora sufficientemente diffusa tra le donne in campagna. L'incontro in sala giunta è stata occasione per ribadire l'importanza di un corretto stile di vita dallo sport all'alimentazione e spiegare la tecnica dell'autopalpazione. C'è un escalation, quello che va registrato è un incremento importante del tumore del seno fra le donne e soprattutto si allarga nelle fasce più giovani che questo ci sta colpendo. Stiamo ponendo molta attenzione. Le donne sanno che esiste una prevenzione, sanno che ci sono degli esami che possono aiutare a prevenire. L'Associazione per la lotta ai tumori del seno è a fianco di queste donne nel tutelarne i diritti, soprattutto nei tempi in cui si prevedono ulteriori ticket, ulteriori tagli alla spesa sanitaria. Siamo molto preoccupati che questa possa abattersi sempre con le categorie più svantaggiate, cioè le donne. L'evento, finanziato dalla Fondazione Conil Sud, vuole sensibilizzare il maggior numero di donne alla prevenzione primaria ed ha preso il via a marzo con il coinvolgimento di una rete di associazioni di volontariato attive sul territorio campano. Alla giornata informativa seguiranno poi visite senologiche specialistiche presso gli ambulatori Alts e sul camper itinerante in Piazza Trieste Trento. È davvero importante favorire dei momenti di incontro, di confronto, di conoscenza, di sensibilizzazione e di informazione, perché l'informazione è uno strumento davvero potente per riuscire ad affrontare qualsiasi problema noi ci troviamo a dover poi superare. Io vi invito sempre a controllare il nostro sito www.altis.it. Aggiungo perché è importante che c'è anche uno sportello di supporto psicologico, rientra in questo progetto. Quindi per quante hanno paura di avvicinarsi alla prevenzione, può essere un passaggio importante appunto superare le ansie.